Buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa di TV1 che al venerdì, come sempre, è curata dalla redazione del quotidiano digitale Newstown.it. Subito sulle prime pagine dei quotidiani che stamane trovate in edicola e l'apertura del centro e del messaggero è dedicata all'operazione Adriatico. Erano padroni di mezzo Abruzzo, camorristi e spacciatori. L'antimafia aquilana fa scattare 31 arresti all'alba di ieri. Nella fotonotizia uno degli arrestati che viene portato in carcere a Vasto, grazie a chi ci ha liberato da questi ceffi nell'editoriale di Giuliano Di Tanna. Torneremo sulla vicenda dell'operazione Adriatico, però restiamo sulla cronaca cittadina. Ricostruzione ok a 500 milioni per i cantieri. Ieri è stata sbloccata una delibera Cipe. Poi la provocazione del sindaco Cialente nel primo consiglio comunale che è seguito allo scandalo Dohut des. Cialente vuole il grande fratello all'Aquila. E ancora la cronaca di Sulmona. Niente letti. Resta per nove ore su una barella. Uno sguardo anche a quanto accade a livello nazionale. Direzione del Partito Democratico. Renzi letta. Scopra le carte. Sul governo si decide il 20. E poi in Senato con Forza Italia che contesta duramente il presidente Grasso. Lui nessuna persecuzione. Naturalmente si parla della vicenda, della decisione di Grasso di costituire il Senato parte civile nel procedimento per il presunto voto di scambio che vede al centro dell'inchiesta Silvio Berlusconi. E poi le tangenti bufera sull'agenzia spaziale indagato. Anche il presidente. Allora andiamo nella cronaca dell'Aquila che si apre con la fotonotizia dell'assessora alle politiche sociali Emanuela Di Giovambattista. Poi a destra Letizia Marinelli ed Antonio Morgante si parla del centro antiviolenza. Lo scontro continua, scrive Mariana Gianforte. L'assessore di Giovambattista punta il dito contro la regione. Se ci sono stati ritardi la colpa è soltanto di chiodi il riferimento. In questo caso è 3 milioni di euro stanziati già nel decreto 39, il decreto Abruzzo e che sarebbero stati destinati alle strutture mai nate. Prima di sparare a zero sul comune dell'Aquila sostenendo che dal 15 settembre 2012 i fondi relativi al centro antiviolenza sono a disposizione delle casse comunali, Antonio Morgante dovrebbe studiarsi bene le carte e ricostruire attentamente la vicenda. E poi dovrebbe spiegare a noi che cosa ha fatto la regione con tali fondi, ma noi lo sappiamo già, non ci ha fatto nulla. Con queste parole l'assessora comunale alle politiche sociali, Emanuela Di Giovambattista risponde a Morgante, ex coordinatore della struttura per l'attuazione del programma di governo e controllo strategico incardinata nella presidenza chiodi, che due giorni fa ha puntato il dito sull'incapacità dell'amministrazione comunale di gestire le risorse relative ai centri antiviolenza dell'Aquila. Fondi affidati nel 2012 alla consigliera di parità Letizia Marinelli, finita al centro dello scandalo rimborsopoli e alle arcidiocesi abruzzesi e poi svaniti perché il relativo decreto del commissario per la ricostruzione, all'epoca era Gianni Chiodi, fu annullato dalla Corte dei Conti e si riapre l'antico scenario di scontro tra l'allora struttura commissariale e il Comune, che fa dire all'assessore Di Giovambattista, basta lungaggi nel rimpalli di responsabilità, non possono volerci così tanti anni per un progetto, si deve andare avanti. Un appello a lasciare da parte chiacchiere e polemiche e riprendere da dove il discorso si è interrotto, ossia da quel tavolo di giugno del 2013 con il capo del Dipartimento per lo Sviluppo Territoriale Aldo Mancurti in cui si stabilì che i fondi del progetto Samaria, quello della Curia, dovevano essere riprogrammati. Nella lettera che accompagna il verbale di quella riunione, spiega Di Giovambattista, che si è tenuta proprio per discutere della realizzazione del centro di accoglienza e ascolto delle donne, Mancurti scrive. Si coglie l'occasione per sollecitare gli uffici competenti della regione, cui spetta la programmazione degli interventi delle politiche sociali a favore del cratere, di approvare un nuovo progetto per l'attuazione di quello che doveva essere Samaria, poi ricusato, come detto, dalla Corte dei Conti. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Taglio medio, indagini sulla fuga di notizie. Torniamo al Consiglio Comunale Caldissimo. Di ieri il Sindaco Cialente rivela che in giro ci sono migliaia di intercettazioni. C'è un'indagine della Procura volta ad accertare come mai siano state rese pubbliche delle intercettazioni relative ad indagini riservate. Lo ha detto il Sindaco Massimo Cialenti, in occasione del Consiglio Comunale, è convocato anche per spiegare le ragioni delle sue dimissioni e del successivo di ritiro, seppur, aggiungiamo noi, ad un mese dagli arresti per l'inchiesta da Outdes. Stanno girando, dice il Sindaco, 5-6 mila intercettazioni che la Procura ha acquisito nell'ambito delle indagini post-sisma. È giusto chiedere di preservare il territorio dall'arrivo del maraffare e dalla criminalità organizzata, ma queste cose non si fanno mettendo dei poliziotti all'ingresso della città con la paletta. Si fanno predisponendo operazioni mirate. Se dovesse essere accertato che qualcuno all'interno della Procura o della Polizia ha tirato fuori delle intercettazioni che non potevano essere divulgate, sarebbe una mancanza nei confronti della città. Chi sta facendo uscire notizie o chi magari passa alcune informazioni non è molto diverso da chi diceva che culo il terremoto, virgolettato. Il riferimento, scrive il Centro, è alle intercettazioni che riguardano l'ex assessore Ermanno Lisi. Il Sindaco ha annunciato inoltre possibili azioni legali contro chi ha fatto attacchi alla nostra città. Parole evidentemente molto pesanti, se è vero che chi diffonde delle informazioni e dunque fa diritto di cronaca, può essere comparato a chi invece diceva che culo il terremoto. Ma staremo a vedere. Il Vice Sindaco Trifuoggi, ieri al debutto in Consiglio Comunale, pronti a stanare le pecore nere, l'inchiesta sulle tangenti, non ferma la macchina comunale, non sta pesando, non ci sono ricadute negative nell'attività dell'amministrazione comunale. Qualche giorno fa, dice Trifuoggi, che lo ricordiamo è l'ex procuratore dell'Aquila e poi di Pescara, ha parlato con il procuratore della Repubblica Cardella, ovviamente lo conoscevo da prima, dice non certo per chiedere notizie su indagini in corso e ci mancherebbe, ma per ribadire che l'amministrazione comunale è interessata affinché eventuali pecore nere vengano stanate e poi espulse e che non intendiamo perseguire la politica della spazzatura sotto al tappeto. Così Nicola Trifuoggi, ieri come detto al debutto da Vice Sindaco del Comune dell'Aquila, a taglio basso, nella cronaca del centro, il procuratore nazionale antimafia presente all'apertura dell'anno accademico della Scuola della Guardia di Finanza, il pezzo è firmato da Barbara Bologna. Ancora il consiglio comunale di ieri, Cialente, sciofra battute, voglia di autocelebrarsi, accuse ai media e poi la provocazione. Venite da noi a fare il grande fratello. Succede anche questo nell'Aquila post-sisma, rissa sfiorata sul piano di protezione civile che non c'è, fra il consigliere dell'IDV di Nicola che sostiene la maggioranza di Cialente e invece il consigliere Vincenzo Vittorini, capogruppo dell'Aquila che vogliamo, che siede nei banchi delle opposizioni. Lo vedete nella fotonotizia accanto appunto al sindaco Cialente. Ho una proposta per le tv nazionali, dice il sindaco. Venite a fare il grande fratello all'Aquila, così l'Italia capirà finalmente cosa sia il dramma del terremoto. E visto che stiamo qui, suggerisco anche il titolo della trasmissione in dialetto aquilano, ossia iugrande quatrano. Da uno come Massimo Cialente, scrive Fabio Iuliano, puoi aspettarti di tutto, interviste chilometriche, accostamenti improbabili, iperboli e metafore. Tutto. Certo, la battuta provocazione del grande fratello mancava. Del resto, uno dei leitmotiv del suo intervento in consiglio comunale è stata una critica a tutto campo, a tutte quelle testate che hanno fatto attacchi inqualificabili a una città come la nostra, che non lo merita. Il primo cittadino si prende più di un'ora per spiegare le ragioni delle sue dimissioni e del successivo ritiro. Faccio di tutto per dare a questa città le risorse per ripartire, spiega. E poi, poco cambia, se il Cipe ha reso disponibili 545 milioni di euro per la ricostruzione privata. Questi fondi appena sbloccati, spiega, sono il risultato delle mie proposte della bandiera tricolore e della fascia da sindaco. E fanno parte di quel famoso miliardo e due chiesto a suo tempo. E poi, insomma, il racconto di Fabio Giuliano, di quanto accaduto ieri fra risse e frase ad effetto del sindaco dimissionario che poi ha deciso, come sapete, di revocare il suo volere. Aldrovandi e Cucchi sia la cittadinanza onoraria e questa è una buona notizia per la città. Il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di deliberazione riguardante l'acquisizione della donazione da parte del gruppo Fiat di una struttura da Dibira, da Silonido e Scuola dell'Infanzia nel quartiere Cese di Bazzano e poi ha deciso anche di riconoscere la cittadinanza onoraria a Patrizia Aldrovandi e Ilaria Cucchi che per anni hanno lottato al fine di ottenere la giustizia. Patrizia Aldrovandi per suo figlio e Ilaria Cucchi invece per il fratello Stefano. E poi il documento che è stato reso noto ieri in Consiglio Comunale dal capogruppo del Partito Democratico Maurizio Capri, un documento firmato dalle categorie e dagli ordini professionali che nei giorni scorsi hanno incontrato in una serie di appuntamenti il sindaco Massimo Cialente. Categorie e ordini, ecco le proposte le trovate, come detto, a pagina 16 del centro. E poi appunto il Cipe che ieri ha sbloccato questi 545 milioni per la ricostruzione privata. Trigilia, il ministro per la coesione territoriale, che ve lo ricordo, alla delega alla ricostruzione del cratere, dice sono soldi per i cantieri. Il provvedimento impegna da subito anche le risorse previste per il 2015 e il 2016. Poi il sottosegretario Regnini, la volontà del governo è quella di portare avanti la ricostruzione. Il Cipe, si legge nell'articolo del centro, ha dato ieri il via libera alla proposta presentata dal ministro per la coesione territoriale Trigilia d'intesa con il ministro dell'economia, che consente di impegnare già a partire dall'anno in corso risorse economiche stanziate per i prossimi anni a favore del comune dell'Aquila e di quelli del cratere. In particolare il provvedimento consente di impegnare a partire da quest'anno le risorse assegnate con le delibere Cipe 135 e 50 per le annualità 2015 e 2016 per l'Aquila e per le annualità 2014 e 2015 per i comuni del fuori cratere. Via libera del Cipe anche all'autorizzazione per assegnare all'Aquila una quota dell'annualità 2014 delle risorse alla ricostruzione cittadina stanziate nella legge di stabilità, l'ultima, quella del 2014. Si tratta di un totale di 545 milioni che consentiranno l'apertura di nuovi cantieri. L'obiettivo si legge in un comunicato del ministero comune più volte dichiarato appunto dal ministro Trigilia di garantire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione di edilizia privata per gli immobili adibiti ad abitazione principale danneggiati dal sisma. Tale esigenza nasce sulla base dei dati emersi dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione degli immobili privati al 31 ottobre 2013, trasmessi agli uffici competenti nel dicembre scorso. Il famoso report che Trigilia inviò al Parlamento. In particolare per il Comune dell'Aquila è prevista l'autorizzazione ad impegnare sin dal corrente anno le risorse assegnate per l'annualità 2015 con la delibera 135, quella del 2012, e stiamo parlando di 158 milioni, e della delibera Cipe 50 del 2013, per quel che riguarda invece l'annualità del 2015, pari a 114,5 milioni. Insomma, a far di calcolo parliamo, come detto, di 545 milioni che daranno un po' di ossigeno alla ricostruzione nei prossimi mesi. Abitazione equivalente. Le richieste sono state 169. Le domande di contributo per abitazione equivalente in corso di pubblicazione sul sito del Comune dell'Aquila. Lo dichiara l'assessore alla ricostruzione di Pietro Di Stefano, e appunto i dati li trovate sul sito del Comune, il totale del contributo concesso ammonta ad oltre 52 milioni di euro, mentre quello effettivamente erogato è pari a 51,969. Dice Di Stefano, la scelta di accedere al contributo statale per l'abitazione equivalente è stata permessa dal Decreto Legge 39 del 2009 e poi convertito nella Legge 77, mentre le successive ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno regolamentato l'accesso fissando i requisiti per le domande. Sin da subito è stato chiaro che la possibilità del riacquisto anche fuori il territorio comunale avrebbe di fatto favorito l'esodo dalle zone colpite dal sisma. Basti pensare, spiega l'assessore, che su 169 contributi concessi ben 92 sono quelli relativi al riacquisto di abitazioni fuori dal cratere del Comune dell'Aquila. Ne abbiamo avuto e ne abbiamo dato comunicazione all'allora commissario per la ricostruzione affinché la norma fosse cambiata, almeno introducendo il vincolo che il riacquisto dovesse avvenire nello stesso Comune dell'abitazione distrutta, ma questo non è mai accaduto ed è evidentemente un problema, ma in particolare per quel che riguarda la nostra questione dello spopolamento. Pezzo pane, la senatrice dice è certamente positiva la notizia dei fondi, in parte sbloccati dal Cipe. Torniamo dal Ministro Trigigliano, a grande soddisfazione vedere che l'impegno parlamentare e i risultati conseguenti pagano. Questo ci spinge a continuare nell'impegno per ottenere il resto delle risorse e poter completare la ricostruzione, visto che oramai tutti, anche Trigiglia, hanno concordato sui veri fabbisogni per la ricostruzione. Così la querelle continua fra il Comune dell'Aquila e il Governo guidato da Enrico Letta, che lo ricordiamo non fa parte di un altro partito, è dello stesso partito della maggioranza di governo che ha l'Aquila, il Partito Democratico. Interrogazione al Ministro di Melilla, di SEL, l'On. Melilla, ex Otefal, l'On. chiede il salvataggio dei posti di lavoro, nella foto qui vedete in piccolo lo stabilimento, scongiurare il dramma occupazionale dell'ex Otefal. La richiesta è contenuta in un'interrogazione a risposta scritta che l'On. di SEL, Gianni Melilla, ha rivolto al Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini. Melilla è il primo ad aver raccolto l'appello lanciato alle istituzioni dai lavoratori della fabbrica aquilana alle prese, ai noi, con l'ennesima grave crisi. Nell'interrogazione il parlamentare di SEL chiede al Ministro, se non ritenga doveroso, promuovere un'iniziativa con le parti sociali e gli enti locali per cercare soluzioni produttive e occupazionali, così da scongiurare questo dramma occupazionale. E la città dell'Aquila, insomma. I drammi occupazionali purtroppo ne conosce e troppi ad oggi. Firme per sistemare la sede, centro polifunzionale dell'Ateneo. Parliamo della raccolta firme promossa dall'Udu, che ha raccolto oltre 600 firme tra gli studenti, perché il centro polifunzionale dell'Ateneo venga finalmente ricostruito. Parliamo del centro che si trova accoppito. E poi, ancora, nella cronaca dell'Aquila, la fotonotizia con i giovani musicisti amici di Mario Celli, che mercoledì sera hanno dedicato al giovane, travolto da una slavina a Campo Imperatore, una bella serata di musica sulle notte dei Pergem. L'Irish Pub di Pianona era davvero gremito, un concerto con proiezioni e interventi. Intanto, il centro scrive che al giovane sarà intitolata un'aula della Facoltà di Medicina. E dalla cronaca dell'Aquila, torniamo alla cronaca regionale, alle prime pagine, a quella che è stata l'apertura del centro sugli arresti scattati ieri mattina per 31 persone, camorristi spacciatori che agivano sulla costa vastese dell'Abruzzo. La malavita della porta accanto, scrive il centro in un lungo reportage dedicato a quanto accaduto ieri. La droga dei camorristi da Francavilla a Vasto, sgominata la cosca che spadroneggiava sul ritorale, 31 arresti, 84 indagati, teneva in scacco una fetta d'Abruzzo, tentati omicidi, estorsioni e pestaggi. Vedete il comandante del Ross, avevano armi da fuoco, a volte utilizzate con disinvoltura, anche in luoghi pubblici con rischi per l'incolumità dei passanti, questo per gestire le piazze della droga. Il PM, David Mancini, i coniugi Cozzolino hanno spiegato con tentato omicidio in Abruzzo alla stessa forza di una strage in terra di mafia e Cozzolino è proprio il re dello spaccio che ha deciso di collaborare. Il suo nome compare per la prima volta in Abruzzo 12 anni fa, poi il coinvolgimento nell'operazione Triangolo con l'arresto, ha deciso di collaborare con le sue frasi, qui riportate dal centro, ha dato vita all'operazione Adriatica, lui il perno intorno a cui è ruotata l'indagine. Alcune frasi appunto il centro le riporta, i primi due omicidi che ci riportano a Portici. In Campania già da minorenne ho fatto parte di un clan camorristico dei Vollaro, quando ero minorenne nel 1988 ho sparato a due persone e poi le estorsioni, quando sono uscito dal carcere ho iniziato a fare le estorsioni sempre per il clan Vollaro, facevamo queste estorsioni però non mi trovavo bene perché i soldi loro li spartivano a modo loro. E poi l'agguato in strada su un runner con due persone a bordo e insomma Cozzorino racconta che capì subito che si trattava di un agguato e infine lo sbarco aggissi per la droga. Dissi io me la vedo lì però fai una cosa, questi 20 chili di fumo che tu hai preso, datosi che tu li vendi a 4 euro, facciamo 20.000 euro io e 20.000 euro tu. E lui disse a me sta bene, siamo scesi con 2.765, siamo partiti da Gis, insomma il centro ricostruisce qui frase per frase quanto accaduto lo sbarco della malavita in Abruzzo e poi la cocaina che viaggiava anche su Facebook e negli interrogatori dei capo clan svelato il patto con gli zingari del luogo per l'attività di spaccio e ancora il capo dell'antimafia che come detto ieri era all'Aquila anche per altri motivi e per l'inaugurazione dell'anno della Guardia di Finanza scrive erano qui in fuga dalle faide appunto campane. Così il centro di oggi lo trovate in edicola con la cronaca abruzzese per quel che riguarda i arresti di ieri mattina nell'ambito dell'operazione Adriatico, 31 arresti lo ricordiamo, e invece per quel che riguarda la cronaca dell'Aquila ovviamente al centro quanto accaduto ieri in Consiglio Comunale il primo Consiglio Comunale che ha discusso delle dimissioni e poi il ritiro delle dimissioni del sindaco Cialente dopo che sono scattati gli arresti per l'inchiesta da Outdes dal centro noi passiamo al messaggero sempre per la cronaca d'Abruzzo l'apertura è la stessa del centro bloccati gli scissionisti d'Abruzzo duro colpo della DDA dell'Aquila al clan Camorrista Campano che aveva messo radici nel vastese, 31 arresti grazie al pentito Cozzolino smascherata la rete che gestiva il racket della droga l'Aquila, la Camorra aveva messo le mani sull'Abruzzo sul Chietino in particolare, come detto 84 indagati 31 arresti di cui 18 in carcere l'imponente operazione Adriatico dei ROS dell'Aquila coordinata dalla direzione distrettuale del capoluogo di regione nelle province di Chieti, Napoli, Salerno, Foggia, Latina, Ascoli, Piceno e Campobasso che frantumono un'organizzazione di stampo camorristico impiantata nel vastese che per filo e per segno ripeteva struttura, gerarchie e modalità criminali della Camorra a capo di tutto c'era Lorenzo Cozzolino camorrista legato alla famiglia scissionista del clan Campano Vollano e con lui la moglie Italia Belsole figlia di Attilio Belsole che di quel clan era esponente di spicco per dieci anni il gruppo ha messo a segno minacce, estorsioni, tentati omicidi, attentati dinamitardi e un immenso traffico di droga con i cui primi proventi veniva finanziata l'attività criminale sembravano episodi non collegati tra loro invece il Didia dell'Aquila guidata da Fausto Cardella ha messo a sistema ogni crimine e il rossa agito non verso singoli ma verso un'organizzazione della prima volta in Abruzzo a tessa la cronaca accoltella la madre perché credeva volesse avvelenarlo è ancora cronaca terribile a Pescara muore a tre anni un bimbo di tre anni è morto nel sonno dopo una forte febbre è giallo qui vedete nella fotonotizia il palazzo dove viveva il bambino disposta l'autopsia taglio medio, la cronaca politica Chiodi verso l'europeo ora nel mirino c'è Pagano il governatore potrebbe lasciare per il presidente Pagano otto notti di a carire insomma dopo aver detto di essere pronto alla ricandidatura di averne parlato anche con Berlusconi Chiodi potrebbe virare verso l'elezione europea lasciando così la regione e come detto per quel che riguarda l'indagine rimborsopoli che ha travolto la giunta a Chiodi e non solo gran parte della maggioranza e anche alcuni consiglieri d'opposizione ora nel mirino c'è Pagano e poi lo sguardo dell'antimafia sull'aeroporto di Preturo è una notizia che ci riguarda da vicino retaggi negativi che non ci appartengono dice Giuseppe Musarella che è l'amministratore delegato della Express la società che ha preso in gestione l'aeroporto dei parchi per vent'anni definisce così l'inchiesta aperta dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila e ne prende le distanze ho chiamato il comune qualcuno mi ha detto che si troverebbe trattare di vicende risalenti al 2006 lo scalo dedicato a Gionata Amburro quindi la gestione Express non ha nulla a che vedere con le inchieste non abbiamo ricevuto nulla nessun avviso di garanzia nessuno si è presentato qui a chiedere documentazione ci sorprende noi non ci riteniamo coinvolti su nulla dice Musarella secondo alcune fonti sul piccolo scalo aquilano avrebbe indagato per un certo periodo anche la DIA di Roma per chi lo ha visto si tratta di un faldone di carte carteggi, mappe persone sentite assommarie informazioni tanto da far spavento scrive il giornalista del Messaggero senza contare la parte tecnica come ad esempio le intercettazioni telefoniche a quanto pare le indagini condotte a 360 gradi i rilevi partirebbero dai anni 60 con tutta l'annosa vicenda legata agli espropri dei terreni attorno allo scalo fino ai giorni nostri insomma probabilmente sentiremo ancora parlare della vicenda dell'aeroporto dei parchi in prima pagina come detto sul Messaggero d'Abruzzo l'operazione Adriatico da Francavilla a San Salvo con l'elicottero dei Carabinieri il pezzo di Gianni Quagliarelle poi Camorra e Droga i 31 arresti nel Chietino il procuratore Cardella un clan criminale aggressivo sul territorio il pezzo di Marcello Ianni qui vedete nelle fotonotizie Cardella e poi nella conferenza stampa e poi Lorenzo Cozzolino e la raffica degli arresti all'alba a Vasto in taglio basso trovate l'elenco di tutti i nomi coinvolti e poi chi sono appunto i coinvolti in questa indagine nel pezzo di Quagliarella gli scissionisti via da Napoli per un nuovo business cronaca politica come detto molto interessante perché il messaggero a firma di Claudio Valente scrive che Chiodi potrebbe lasciare quindi non concorrere alla ricandidatura alle prossime elezioni regionali piuttosto volare in Europa il governatore potrebbe rinunciare alla candidatura se Berlusconi lo aiuterà e qui vedete il governatore chiede appunto con Silvio Berlusconi sono il resto il candidato del centrodestra alla regione è deciso Gianni Chiodi troppo deciso scrivono e dicono i dirigenti nazionali di Forza Italia che avrebbero gandito delle affermazioni più sfumate da parte del governatore finito nelle pastoie dei rimborzopoli con annessi e connessi scandali a tinte rosa che Chiodi non dovesse difendersi sussurrano i signorotti Forza Italici ma annunciare la ricandidatura a moto proprio ignorando il partito non è parso una morsa oculata anche se umanamente comprensibile ti chiedono cosa fai lasci e tu non fossi altro per orgoglio rispondi se lascio scherzi io raddoppio ma qui c'è in ballo una regione e il leader della coalizione di centrodestra è finito in un'inchiesta spinosa sotto vari punti di vista insomma il clima non è dei migliori in seno al centrodestra abruzzese e dunque staremo a vedere se Chiodi sarà davvero il candidato di Silvio Berlusconi alle prossime elezioni regionali del 25 maggio se invece deciderà di correre per le europee intanto come detto il faro della procura si accende su una zero pagano il presidente del consiglio d'Abruzzo che ha svolto consulenze per il settore stampa dell'emiciclo e anche lui ha un po' di notti da giustificare in merito ai rimborsi chiesti alla regione poi una lunga pagina dedicata al consiglio comunale di ieri le intercettazioni concernente che appunto svela l'inchiesta sulla fuga di notizie Trifuoggi che dice non sono il badante di nessuno siamo interessati a stanare le pecore nere e poi la notizia che vi davamo sullo sblocco dei fondi del Cipe per 545 milioni che saranno destinati alla ricostruzione privata ancora qualche minuto insieme per questa rassegna stampa di venerdì 7 febbraio e la dedichiamo ad una rapida lettura di quanto scrive il Corriere della Sera poi passeremo allo sport con il Corriere dello Sport il Corriere della Sera che dedica la sua apertura alla politica nazionale la stretta di Renzi sull'etta giochi a carte scoperte la risposta del Premier bisogna fare squadra faccia a faccia alla direzione del Partito Democratico il 20 ci sarà un chiarimento decisivo fondi ai partiti ci saranno più limiti l'ipotesi ricambio le riforme il voto Antonio Polito nell'editoriale scrive una staffetta verso il nulla e poi c'è una lunga lettera che vi consigliamo insomma del Premier Letta che scrive al Corriere della Sera giustificando la sua presenza di oggi a Sochi con gli atleti italiani oggi alle 17 come sapete c'è l'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali e molti leader del mondo hanno disertato la cerimonia per le frasi e le azioni omofobe e anti-gay di Vladimir Putin mentre in questa lettera al Corriere Letta spiega perché lui invece ci sarà poi nella fotonotizia quanto è accaduto a Milano alla stazione centrale è arrestato un algerino assalto con la mannaia come vedete nella fotonotizia e appunto nelle pagine interne per lo più almeno le prime le trovate dedicate a quanto sta accadendo a livello politico in seno allo stesso partito sempre allo stesso partito del Partito Democratico e tra il Premier Enrico Letta e il neosegretario dello stesso partito Matteo Renzi che stanno giocando ad una partita che potrebbe rilevarsi abbastanza pericolosa per la tenuta dell'esecutivo un ultimo sguardo al Corriere dello Sport che dedica l'apertura al tecnico dell'Inter Walter Mazzardi a rischio scrive il giornale di Roma Torire lo rassicura però il tecnico vacilla solo con i risultati resterà ancora all'Inter la proprietà pretende un posto in Europa lui prepara quattro mesi al top ma perde Alvarez intanto Hernanes già provoca le rivali dei Nerazzurri qui non ci sono mai stati scandali taglio alto Marchiso il centrocampista della Juventus al Bivio si avvicina l'addio visto che non gioca praticamente più in taglio basso Zögler il portabandiere italiano una leggenda ha 40 anni del Bob Azzurro che appunto domani nella gara di Slittino debutta e oggi invece parteciperà come portabandiere alla cerimonia di apertura dei giochi invernali di Sochi c'è una bella intervista al campione azzurro taglio basso sì quest'anno un altro Valentino test MotoGP Rossi Bracca Marquez ho studiato come guida e poi ancora qualche notizia di cronaca sportiva Bologna addio a Diamanti che se ne va a giocare in Cina calcio a 5 l'Italia conquista la finale ieri ha battuto il Portogallo 4 a 3 e poi la notizia che Cellino ha venduto il Cagliari lo comunica con un sms inviato alle redazioni alle 5 di mattina per quest'oggi venerdì 7 febbraio è tutto con la rassegna stampa di TV1 come ogni mattina insomma la rassegna stampa torna domani l'appuntamento invece con la redazione di Newstown per venerdì prossimo buon proseguimento di trasmissioni con TV1 e buona giornata e buona giornata